. Chi è la più ricca tra le ragazze di casa Kardashian? . Sono le donne più potenti del mondo, con un patrimonio stimato intorno a diversi milioni di dollari. Batra Kim, Khloe, Kourtney, Kris, Kylie e Kendall, qual è la più ricca di casa Kardashian?. . L'inizio del successo, milionario. Non si sente parlare d'altro se non della loro potenza e capacità imprenditoriale oltre che bellezza, sia chiaro e in effetti il fenomeno Kardashian, Jenner è uno dei più interessanti da analizzare. La famiglia dell'avvocato di O. Ilunga. . Simpson forse non si sarebbe mai aspettata dieci anni fa di diventare il clan più potente degli Stati Uniti, ma c'è evidentemente qualcosa in loro che ha funzionato e che ha attratto così tanto il grande pubblico da far diventare le donne Kardashian un vero e proprio mito nel mondo. . . Il reality show al passo con i Kardashian compie proprio nel 2017 ben dieci anni di trasmissione, ma nel 2007 nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe avuto così tanta fortuna. . . Lo show ha portato nelle tasche di Kim, Khloe, Kourtney, Kris, Kylie e Kendall più di 10 milioni di dollari a testa per un totale secondo Forbes, di 122.5 milioni solo tra il 2015 e il 2016. . . Questo guadagno ha reso le donne della famiglia Kardashian le star più pagate della televisione. . . Oltre a questo, ognuna di loro si è ingegnata per riuscire in un ambito professionale, cosa che le ha portate a guadagnare diversi milioni di dollari a testa, basti pensare che Kim Kardashian viene pagata anche 500 mila euro per un post su Instagram per comprendere l'enorme potere economico che ha questa facoltosa famiglia. . Ma tra le donne di casa Kardashian, qual è la più ricca?. . . I patrimoni netti delle donne di casa Kardashian. . Appena tornata dall'ennesima Fashion Week, Kendall Jenner non ha decisamente problemi a trovare nuovi ingaggi, terza modella più pagata del mondo, il suo patrimonio si aggira intorno ai 18 milioni di dollari. . I proventi di Kendall vengono ovviamente sia dal reality show sia dagli ingaggi con le varie case di moda. E ovviamente anche dalle sue attività imprenditoriali avviati con la sorella Kylie Jenner. . . A proposito di quest'ultima, Kylie è una delle socialite più forti di Instagram. Diventata famosa per la sua linea di lipstick e make-up dedicata alle giovanissime, ma non solo, la cosa le ha fruttato un bel po' di denaro. . . Il patrimonio netto di Kylie Jenner è di 50 milioni di dollari, sì, avete capito bene, la piccola di casa Kardashian è la celebriti più giovane e più pagata tra le star della lista stilata da Forbes. . . La sua azienda, Kylie e Cosmetics, ha guadagnato circa 420 milioni di dollari da quando è stata lanciata due anni fa, non male per una ragazza di soli 20 anni. . La matriarca Kris Jenner, manager di tutte le sue figlie, ha un patrimonio di 60 milioni di dollari, Chloe di 40 milioni, e Kourtney di 35 milioni. Ma arriviamo alla pregina, Kim Kardashian, le sue ricchezze ammontano a 175 milioni di dollari. . Oltre ai proventi del reality show, la socialite ha ricavato una vera e propria fortuna grazie alle Kimoi, alla linea di Makeup, ai videogiochi, alle cover per cellulare. . Senza contare che ha ideato anche una linea di vestiti insieme a Kanye West dedicata ai bambini. La più ricca? Ovviamente è lei. . 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